Sono ripresi l'8 giugno con lo screening mammografico gli esami di primo livello del programma di screening oncologico dell'ASPE di Messina in collaborazione con i medici di Medicina Generale e Federpharma Messina. Tenuto conto dell'andamento dell'epidemia Covid-19 in Sicilia, infatti l'assessorato regionale alla salute ha disposto la ripresa progressiva delle attività assistenziali, dando priorità agli screening oncologici che rappresentano un intervento preventivo importante di salute pubblica. Il 15 giugno partiranno gli screening del cervico carcinoma e a fine giugno lo screening del colorretto con avvio della distribuzione raccolta dei kit per la ricerca del sangue occulto da parte delle farmacie aderenti per un graduale coinvolgimento della popolazione su tutto il territorio provinciale. L'attività di screening, dice il direttore generale Paolo Lapaia, sarà organizzata garantendo la sicurezza degli operatori e degli utenti. Negli ambulatori saranno adottate tutte le misure di prevenzione e protezione idonee con triage delle utenti, distanziamento fisico negli ambulatori e sanificazione degli ambienti. Nei mesi di giugno e luglio saranno invitate telefonicamente le utenti che avevano ricevuto una lettera di invito per i mesi di marzo e aprile, il cui esame è stato sospeso per l'emergenza Covid-19.